buongiorno dio vi benedica sono il pastore mario gozzi e volevo fare una meditazione oggi con voi e con le sacre scritture volevo un po contividere la parola di dio la mia meditazione oggi è perché la gente ha sempre voglia di interpretare la bibbia perché non dobbiamo accettare la bibbia per quello che dice per quello che dice semplicemente per quello che dice molte volte gesù diceva come leggi nelle scritture oppure a volte diceva cosa dicono le scritture perché c'è questa così voglia di interpretare sì a volte la bibbia necessita di interpretazione per esempio quando qualcosa non è chiaro in qualche verso poi andiamo a trovare in altri versi e questo 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 si realizza un'interpretazione perché la bibbia si interpreta con la bibbia ma lasciamo perdere un po l'interpretazione perché non dobbiamo accettare la bibbia per quello che semplicemente dice gesù disse in giovanni 17 17 padre santificali nella tua verità la tua parola è verità perché non accettare la parola di dio come la verità l'unica verità perché non accettare la verità della bibbia che dice che per le sue lividure noi siamo stati guariti che gesù ha portato le nostre malattie sul suo corpo nel legno della croce lui ha portato le nostre malattie lui ha portato le nostre malattie lui ha portato le nostre malattie nel nome di gesù cristo lui li ha portati affinché né io né tu li dobbiamo portare lui perché ha portato su di sé le malattie le infermità affinché tu e dio non portassimo le infermità e le malattie lui li ha portati via e li ha portati via nel suo corpo sulla croce e questo è molto importante a volte una persona che dico sì però io non interpreto questo verso per quello che dice cioè che gesù ha portato le nostre malattie quindi io non li devo portare hai poco da interpretare io sto leggendo la bibbia io credo io sto citando io non sto interpretando io sto leggendo che gesù ha preso su di sé le nostre malattie le nostre infermità non c'è bisogno che io li porti li rifiuto li rinnego li sgrido perché gesù ha portato su di sé le mie malattie le mie infermità non sto interpretando sto semplicemente leggendo perché dobbiamo dire ah sì ma sì veramente letto veramente c'è scritto così però io interpreto qualcuno mi ha detto che ma perché devi dire quello che dice qualcuno perché non devi credere semplicemente quello che dice la bibbia se io per esempio ti dico ieri sono andato in una tal città con mia moglie e mia moglie ha comprato una borsetta perché tu devi interpretare mia moglie ha comprato un'automobile il pastore mario è andato ieri fuori e sua moglie ha comprato un'automobile ma io non ho detto un'automobile ho detto una borsetta ho detto che mia moglie ha comprato una borsetta perché non mi potete prendere in parola perché non dovete accettare quello che io ho detto che mia moglie è andata a comprare una borsetta perché dovete dire o interpretare quello che voi volete dire perché non accettarmi in parola perché non accettare in parola quello che dice la parola di dio quello che dicono le scritture se leggi nella bibbia che per le sue libidure noi siamo stati guariti perché non lo devo accettare alleluia dillo con me signore gesù accetto questo giorno che tu hai portato le mie malattie le mie infermità rifiuto di portarli io io voglio credere semplicemente a te grazie signore che io credo che tu hai portato malattie infermità maledizioni dolori e non c'è bisogno che li porti io ti ringrazio signore gesù perché mi hai liberato da questa malattia da questa infermità signore non la voglio nel mio corpo non la devo portare perché tu l'hai portata sul tuo corpo sulla croce affinché io fossi liberato ti ringrazio con tutto il cuore nel nome di gesù cristo amen e amen smettila di interpretare e inizi a credere che per le sue libidure le sue frustate le due sono le frustate del corpo per le sue piaghe noi siamo stati guariti dio ti benedica